aspetta diamoci un'occhiata c'è un giro attorno c'è anche la dependance vedi qua si scende c'è un ingresso secondario impressione si entra qua si questi gradini guarda come sono storti nooo non ho ripreso dai rifarmela ti prego rifarmi l'inciampo sai che anch'io stavo per inciampare la ah ecco guarda vieni a vedere questo terrazzino come sta super miracolo oh porca miseria c'è veramente questa terrazzina impressionante c'è qualcosa qua sotto non so delle sedie penso che sia una soltà di cantina si siamo qua guardiamo c'è qualcuno queste erano le segrete ah queste qua le scaglie che abbiamo visto prima tutte diroccate questa zona cantina vini guarda quante bottiglio tantissime si beveva anche qua mamma mia mamma mia botti che ho di vetro l'ambrusco l'ambrusco e pop corn siamo in zona ok guarda il pavimento qua come si è imberlato si è andato giù ha sollevato tutte le fondamenta si ma c'era una vasca dici che una vasca quella si ah un lavatoio un lavatoio si lavanderia secondo me è aperto si sono dei lucchetti no occhio è tutto lasciato così permesso ho distrutto tutto ma è qualcosa di bellissimo questo mobiletto con il velluto blu dentro si è il velluto è decorato a velluto proprio il velluto è un bel mobiletto ma dai ancora i quadri ci sono hai visto iniziamo con l'ordine iniziamo da subito da questa stanza qua ok guarda quante cornici ancora mamma mia ma dai tutti i bicchieri ci sono ancora anche dentro ma di che risale questa casa secondo te ma dai ma questo sentiere oh mio dio ma come quadretti una scatola portasigari si porta carte da gioco si ma quante cose mamma mia e che cose fantastiche guarda una vecchia foto qui è talmente sbiadita che non si vede neanche si quanti bottoni qua guarda è una scatola di cucito si ma quante cose la bohème era uno che mi piaceva la musica perché ho visto che c'è la bohème c'è un disco del requiem di mozart oh ma tutto è rimasto eh che cosa bellissima a me verrebbe da mettere tutto a posto vedi che c'è un requiem qua è un disco in vinile hai visto di mozart e requiem si è vera alla cucina anche qua è rimasto tutto sai qua dentro ci sono i piatti ancora se ti prego vieni a vedere un pezzo di pane cioè sarà mummificato questo ma perché hanno tirato fuori tutto così madonna c'è tutto sì sì tuttissimo guarda ma dai le pentole tutto il taglia patate sale ancora eh guarda che pavimento però che aveva queste sì oltre a sale e pepe aveva anche queste freggiature beh ma da quello che posso rendermi conto adesso da quello che vedo era una famiglia che stava bene perché ci sono cose di valore questo camionetto l'hai visto? sì anche un quadro ma tanti quadri sono rimasti davvero che bello questo sì che bel paesaggio costiera ligure potrebbe essere sì altre cornici dorate sono scioccata e dentro il frigo scarpe l'aria che vecchio quel frigo ma bello bello vecchissimo proprio vintage questo frigorifero qui meraviglioso questo è un padario e l'ho visto guarda tropic system ma cosa sarà degli anni quaranta? scarpe eh sì Rex comunque eh Rex? ma pensa bagnetto piccolo sono sotto scale wow oh mio dio guarda qua io non ci starei molto qua guarda che crepa oddio usciamo sì anche lassù usciamo questo mi arriva addosso come un tappo le cose pasquali qualche ebet ha buttato giù la credenza ma perché questo razzo guarda che bello ma è bellissimo oh soffitti così eh vorremmo andare così dobbiamo procedere con cautela perché davvero una zona studio penso ogni centimetro quadrato è un pericolo ogni centimetro quadrato è un pericolo o ci sono vetri o una zona studio cosa hai trovato? messaggio febbraio richiudere nei soffitti della mente la misura dello spazio del tempo come se non esistessero poetica cosa poetica poetica libri di scuola ma non so c'è di tutto il gatto pardo questi sono 33 giri se c'è ancora dentro non so sì c'è ancora ma quindi questa casa qua perlomeno le cose che ci sono dentro sono almeno anni 80 potrebbe essere sì 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 80-90 si guarda che bel freggio sopra la porta hai visto? ah sì uno stucco ah che stucchi sui soffitti sì entro? vai wow le porte lì guarda cavolo ma pazzesco sta stanza ce la sono dove guardare guarda questo quadro che bello che è anche solo la cornice guarda ti dico allora un gran gusto adesso sono corto questi freggio mamma mia sai che io sono attirato da quello no? eh sì io sono attirato da tutto è tutto troppo bello qua bello provo piano piano non può funzionare shhhh ti ho paura funzionare funziona non si ferma più guarda che qua gli spartiti adesso adesso io mi metto lo spartito qua del flauto terzo quartetto e ti faccio sentire che bravo suonare ma smettila in verità no è uno scherzo si infatti non sa suonare comunque sto Adolf Lechmann lechmann Kaiser Parichef guarda che roba guarda che roba cioè ti giuro che queste tazzine da caffè ce le avevo anch'io a casa più piccole si mi ricordo e c'è stato il boom c'è stata una moda di quelle cose lì con questo lampadario con questo lampadario qualcosa di eccezionale eh che bello adesso ho visto questa porta qua è scorrevole eh la vedi con questo bel freddo sopra erano abbastanza avanti con la porta scorrevole che bella stanza dai e butti proviamo ad andare di qua adesso si andiamo di la qua c'è poca luce accendere la mia guarda avevano iniziato a preparare la partita dama siiii nel tavolino per giocare allora muovo io tu dove muovi? siiii ma sono sbagliate però devono essere tutte sul nero non mi ricordo chi ha messo le pedine non sa giocare a dama non mi ricordo eh sì se no come ti fai a mangiare se sono anche questo era un bel lampadario eh guarda che spifferi che dentro si è perchè la vetrata è di velta ah ecco quelle pedine tutte qua sono uuu guarda che bella questa eh? si quella è la veranda d'ingresso vero? la veranda d'ingresso tutta colorata guarda che luce per questo questa casa qua è stata anche ribatteggiata che bella il raccobaleno rainbow si guarda cosa ne ho fatto quel povero salottino si certo lasciarlo così ben messo e qua guarda per la pittura ah si si dipingeva dipingeva qua ma guarda che qua c'è una luce bellissima per dipingere oh si e sono ancora morbidi eh dentro però dai si e guarda questi pennelli quasi così bellissimi ma forse ma forse li faceva lui questi quadri qua allora guarda si può essere c'è anche un cavalletto per dipingere darsi ma che meraviglio si si è tutto dipinto anche tipo tipo serra gazebo è un gazebo ha ricreato ha ricreato un gazebo un gazebo all'interno ti giuro io vorrei tanto sistemare tutto mi dispiace troppo vederla così bello che meraviglio queste letrate con una tuta integra che delle luce che lasciamo cioè si è bellissimo secondo me si no si davvero un sogno i pavimenti tutti che sono gigliatti come dici tu qui gigli eppure non siamo a zona Firenze qua ok abbiamo fatto il giro qua cioè tipo qua vedi ma cosa devi fare? non ce la faccio non lo so non resisto ti prego non posso vedere le cose buttate così mi dispiace troppo una casa bellissima e se andremo su per questa scalinata comunque in buona condizione un appartamento di intorno che cadi intorno in generale, non ci sono pericoli qua, direi di no, questa è una stufa con terracotta immagino, guarda qua c'è una foto, una foto della credenza immagino che era, è una polaroid questa, è tutto un schicchiolare, guarda che bella scala, guarda quanto è bella, è bellissima questa, è una tra le più belle che ho visto, questa è la lavorazione di balaustra, bellissima, bella 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 bella, wow, wow, cosa sono queste? bottiglie di che? non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto cose così io, ah forse sai cosa? gin? e ci mettevano un'acqua calda, nel letto, e che resto, senti, senti, ma sarai, apri, senti l'odore, eh no, vai ti sfido, no, vai fallo apri i nostri frodo, perdo, perdo subito, ho visto qua, non saranno famosi, sarete famosi, ah, perché una volta si era più rivolto verso l'altro, è una stanza da letto grandissima, grandissima, che meraviglia, mi sembrava una persona, una persona nel letto sotto le coperte, si è un po' secca, mamma mia, sono senza parole, i divanetti, no? si, ma nonostante tutto qua si è mantenuto veramente bene, eh, anche le stoffe, ti aiuto? cravate? no, è una cosa, una fusiacca da donna, cos'è la fusiacca? ha una cinturina, spiegaci cos'è la fusiacca adesso, vediamo cosa c'è, guardiamo ma non tiriamo fuori niente, è tendaggi, tendaggi, ho scoperto le tovaglie, si, le rose gialli, una rosa gialla, questa è una rosa bellissima, in porcellana, guarda che bella, si, guarda di un paralume, no, è un oggetto, guarda, sono, si, è fatta a mano, 35, questo è l'esemplare numero 35, come tutti questi immobili erano lavorati? sempre tendaggi, ci vuole un po' di oleata qua, un po' di oleata, si, ma nonostante tutto reggono benissimo, da bottiglia d'acqua, non si sa perché, questo è un pezzo di stoffa, vedi? si per fare saltoria, adesso alziamo qua e troviamo lo scheletro? no, no, lascia lì ma dai, su cuscini nel settimana inutimistica, ma ci sono gli ultimi, vediamo, di che anno è sta roba? vediamo un po'? 2007? tra l'altro ha compilato anche vent'anni quasi la sapeva vent'anni dai, provo a metterti sul divanetto eh? mettete sul divanetto fallo tu no, perché non metto mai un ciampo? questi armadi sono vuoti eh? gli armadi qua boh qua ci stavano i cimici dei letti che schifo ma tu le finisci di riordinare? cioè, tu dovete fermare la fede perché lei riordina tutto quello che trova allora, per favore, metti a posto di... eh, lo farei, guarda, se avessi... cos'è quella cosa pelosa lì? tipo puzzle listarelle di legno lo farei? tipo puzzle ti giuro, lo farei? guarda che razza di fregi, di decori che ti richiamano, eh? bellissimo, bellissimo perché non si può vedere? tu hai letto questa stanza è enorme, eh? avrà 30 metri quadri è enorme sembra grande come casa mia e questo è il suo bagno privato? dai! sì wow guarda come è decorato guarda che bella questa vasca da bagno ecco la classica vasca da bagno bella cioè, ma hai notato che razza di fregio che c'è? guarda questo, questo qua si acqua sul piove ah, la tenda! andiamo giù la tenda fino sulla vasca da bagno hai capito? che figata ha una sorta di farda, di cipria non so com'è eh sì hai visto che c'erano due lavandini? due lavandini ma è quello? questi fregi in bagno così pazzesco cosa sono le lì di... non so, raffigura delle cose di caccia ma non... una cosa di mitologico sì di qua il mare la costa bello molto bello e qual è la sua stufa? perché quando va a fare... una stufona guarda che qualcuno ha messo a posto qua pulito bravi bravi avete tutta l'ammirazione lì cosa c'è? il portabiancheria? sì apriamo ci sarà ancora la biancheria a sporta oh mio Dio oggi veramente guarda oh che schifo ma è stata abbandonata così improvvisamente sta caccia eh sì cioè si è rimasto tutto così sì ma c'è un'altra stanza da letto qua che vuoi vedere mamma mia e quindi dormivano in tanti qua cioè due letti là tre qua tre? e tre qua però sono un po' bassini questi letti sì veramente ma che è successo? no dai ma no è crollato ma così guarda i piedini ma no non ci sono i materassi guarda sono crollati i materassi ma anche se ci fosse il materassi non sarebbe il possibile sì in realtà sono bassi questa stanza qua guarda il soffitto bisogna stare un po' attenti questa forse è quella che si sa peggio sì non c'è niente qua comunque tutti i pavimenti così bellissimi piastrelle pietra insomma sono piastrelle queste ma piastrelle però sì sì non piastrelle di ceramica queste qua sono piastrelle di pietra tu dici eh sì eh non è ceramica questa qua crash crash porcellanato secondo me questa era la camera padronale eh no la dei genitori la culla il lettino mamma che tristezza un bambino non c'avevano no che tristezza non stavano tutti morti non lo so mamma mia mamma mia c'era il vecchio lettino dove sono i paraspigoli qua i parabolni eh ciò che camera importante qualcosa tenneva i suoi sigari per fumarsi il sigaro prima di andare a dormire può darsi eh sì può essere no il zampirone per zanzare massimo eterno leggeva i vangelo i vesperi la sera prima di dormire sì sì guarda libro delle preghiere nuovissimo eh oh dei toccoli dottor Schultz no e qua sotto sembra quasi che ci sia ancora il pigiama no ci sono ancora capelli eh no vabbè qui guarda un sacco di libri un sacco di dischi guarda ricordo di notte oh che bello io dopo blerarò quello si chiamavano nel 1988 sono sposati mamma mia Eugenio e Gabriella si chiamavano questa è una potente veramente portadocumenti scusa questa è una sottana sì sexy sexy di nuovo le rose gialle questo era un profumo una boccettetta ah sì questo era il suo tappo allora forse i tappi sì comunque stava qua vedi che si è rotto è vero c'è il suo fratello di là e questa foto guarda un tipo che fumava che sarà uno di loro forse no vabbè ci vuole la scaletta per stare qui cioè mettiti vicino giusto per far vedere quanto è alto è alto sì vieni vieni qua facciamo vedere sì mi arriva qua ah perché fede è tipo è uno 50 non è vero sono uno e 69 per l'esattezza e questa mi arriva qua quindi vabbè che erano molto ordinati qua ammassavano ammassavano tutto beh non possiamo saperlo c'è qua con questa panca è bruciata è arrivata questo è questo baule la mandria è tutto bruciato che bella è tutto bruciato è bruciata sì coperte ma come mai ecco perché è bruciato adesso ho capito perché guarda oddio c'è stato l'incendio no ma è tutto bruciato guarda il letto anche guarda il soffitto oddio ma come ma perché qualcuno è venuto a bruciare qua guarda guarda questo qua guarda la porta mamma mia ha fatto le bolle ma sono questa stanza per fortuna è un'altra stanza del letto questa è la stanza della nonna secondo me della nonna cioè ma guarda le molle come sono venute fuori già del materasso no il fatto è che comunque per fortuna qui si è fermato è duro è carbonizzato sembra un tocco di legno immagino per fortuna che si è fermato ma se l'ho venuto a spegnere come fa a estinguersi da soli ma con tutta sta tappezzeria dovrebbe bruciare l'infinito è legno ovunque guarda anche la lampadaria è incredibile quel putto che legge la pallina sì ma guarda che c'era un fiammone qua è tutto nero sopra anche scaturito da una sigaretta buttata cioè qua è tutto legno dappertutto qua ci sono delle foto vieni a vedere davvero ma ci tiene non è che finiamo al piano di sotto questa è una cartolina che bello i cassetti quelli che contengono qualsiasi cosa chiave occhiali un occhiale la mia i bottoni che non sai mai dove mettere ma guarda questa testiera è come bruciata davvero una stanza questa bellissima con il suo terrazzino hai visto? sì ah ma questo qua vedi era la sua luce sì qua per truccarsi era no? si pettinavano forse era la camera di una bambina mi piace pensarlo avrei detto più della nonna della madre famiglia no una bambina una ragazzina anche lei doveva scavalcare per arrampiccarsi il suo strumento sì è vero che bella però peccato che così direi che abbiamo finito il giro qua no? questa qua è la retrata dell'esterna quella bellissima retrata colorata e niente siamo giunti al termine di questa esplorazione eccoci siamo giunti al termine di questa esplorazione è veramente una casa ricca di cose bellissima mi è piaciuta tanto troppo anche ammassate come la catastale è stata un po' vandalizzata il caos c'è ma bellissima io sono proprio felice il pianofolto è stupendo che suonava ancora sì però mi ha fatto tristezza quella stanza bruciata anche a me commentate condividete insomma aiutateci anche a conoscere cose che vogliamo mostrarvi no? sì alla prossima ciao